buonasera a tutti come ti chiami mi chiamo gianmarco saurini da quanto tempo sei in italia da quando sono nato da 29 anni accidenti quanto è durato questo viaggio che hai fatto beh da ciampino ho preso il raccordo poi autostrada e sono venuto in macchina circa 6 ore 7 ore più meno deve essere stata l'ulisse beh un po stancante perché ho guidato io però è come qui senti che cosa vuoi cantarci ho portato un pezzo scritto da me sia musica che testo cantaci il pezzo dai facci sentire speriamo che sia bravo raga no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.